Ciao Belloni, sono il Fustopo Borgapugiano, dove corso un pigiama a parti, ma dedicato al pigiama a parti. Garba di più il pigiama e parti, va bene? Ah perché garba di più, ma che pigiama me lo leva? Io sul pigiama ci ho stampato le pecorelle. Perché le conti se non ti addormenci? No, spero che siano d'ispirazione a chi dorme con me. A me piace perché mi ricorda quanto tempo faccio a letto. Dormi tanto? No, è il mio posto di lavoro. Beh, stasera abbiamo anche Enzo Palo Turchi. Beh, capendo. Pensavo fossero più alla cazzo di cagli. Io vengo spesso al Fustop perché ci divertiamo spesso a 360 gradi. Ma a te tu ti diverti spesso anche a 90 gradi o sbaglio? Laggiù c'è un cartello che ho scritto Hello 90, l'hai scritto te? Sì, nei cegiori del mio panno. Chi l'ha scritto Hello 90? Se per 90 si stanno in centimetri allora posso essere stato... Beh, sì, prima che me l'accorciassi di due centimetri perché se no mi scrivono ad andare di sportire. Che l'è inutile tussantelli intorno alle donne perché l'unico rosso che chi hava è Ed Sheeran. Ti do la ragione. Però ti si impesa. Arrivare a Sheeran però... Va a vedere se piove, vai. Io e lei ci vediamo spesso perché ci piace farci incaversare delle mantelle. Lasciatevi un. Lasciatevi un. Pocca o la lingua. Dai! Così aumentiamo le visualizzazioni. Dai! Toccagliela in tente, dai. 100 visualizzazioni più le facciamo. A 90 è l'unico modo per una coppia per guardare nella stessa direzione. E se mi vuoi nel tuo locale, mandami un messaggio.